Musica Dunque, Patrizia è una familiare di un lavoratore della cooperativa, un lavoratore che si chiama Domenico. Patrizia, oggi sei venuta qui a vivere questa visita guidata prevista nell'Emilia Romagna Open. Come è andata? Che cosa ti aspettavi e come l'hai vissuta? Cioè, io almeno quello che mi raccontava mio marito, questa cosa dell'unione, della cooperativa, l'avevo capito, però oggi veramente ho sentito la cosa, perché anche i racconti dei diversi membri del lavoro, di questi compagni di lavoro del mio marito, è stato bello, molto bello e poi anche interessante, anche il direttore che ci ha raccontato come è stata proprio l'origine. Mi è piaciuto molto, sì, molto contenta. Hai avuto la possibilità di vedere anche la democrazia e la partecipazione di cui si parla tanto, magari te ne ha parlato Domenico a casa qualche volta. La cooperativa, come intendevo io, è questo, come avete voi la cooperativa, dove lavorava lui non c'entrava niente cooperativa, era tremendo, era una cosa veramente, non si può descrivere. Allora, questa cosa della democrazia, anche il fatto che voi fate le cose e chiedete anche chi lavora con voi, chiedete anche i pareri, se va bene così, come si trova, come non si trova, se c'è qualcosa da modificare. Io ho questa cooperativa, questa veramente è ottima, bellissima. Ti chiedo un'ultima cosa, quanto è importante essere coinvolti nella professione o nel lavoro dei propri familiari? È importantissimo, perché in fondo io faccio parte, faccio parte come mio marito della vostra cooperativa, in certo senso, e anzi se avete bisogno vengo a aiutare anche come volontariato, faccio volentieri, perché veramente è una cosa bellissima, mi ha aperto un po' il cuore, devo dirlo. Oh, 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 oh.